Anche quest'anno in conferenza stampa Mido siamo in compagnia di Silvia Paoli, blogger esperta di moda. Allora raccontaci un po' in termini di occhiali quale forme andranno per la maggiore. Allora le forme che andranno per la maggiore sono forme avviatore cioè occhiali a goccia magari un po' aumentate di dimensioni quindi un po' maxi e colletti di vari colori e una forma diciamo che io chiamo a gatto però sormontata da questo ponte del bridge molto evidente quindi è un pochino più forte il modello un po' meno femminile quindi adatto anche all'uomo effettivamente. Invece in termini di colore? Termini di colori diciamo si possono distinguere due cose i colori diciamo delle montature e i colori delle lenti. Nei colori dalla rosa al celeste che possono essere sia opachi che lucidi quindi carta da zucchero, celeste cielo, rosa baby e anche un color giada molto bello. Per quanto riguarda le lenti c'è questa tendenza molto interessante che io ho chiamato Instagram perché sono lenti come filtri che sono colorate quindi possono essere rosa, arancio, viola, color seppia e quindi aggiungono un filtro alla realtà come fa l'applicazione che si usa in fotografia quindi danno un effetto più personalizzato a quello che uno vede quindi uno può vedere rosa può vedere nero insomma dipende dall'umore però ecco questa tendenza Instagram. Grazie grazie mille